Euro Regioni News Coltelli e Amori, Codroipo, violenza ed eroi Il sindaco Fabio Marchetti a nome di tutto il comune di Codroipo ha voluto ringraziare i due suoi concittadini che il 17 febbraio sono stati feriti gravemente nella zona di Piazzale Gemona per salvare una ragazza dall'aggressione del suo ex, consegnando loro un attestato di ringraziamento un uomo aggredisce la propria ex, ormai fidanzata, armato di coltello loro assistono alla scena, intervengono prontamente a difesa della giovane donna e vengono feriti e sono in vita solo grazie al fatto che essendo inverno essendo dotati di giubbotti pesanti e di maglioni la lama è riuscita a colpirli e a trafiggerli ma non a togliergli la vita l'amministrazione comunale ha inteso conferire un attestato simbolico per ringraziare a nome di tutta la cittadinanza questi due giovani per il nobile gesto coraggioso a difesa dell'eterno valore della vita queste sono state le parole che abbiamo scritto su una pergamena per testimoniare il nostro segno di ringraziamento ho iniziato il mandato nel 2011 con un parricidio abbiamo continuato nel medio friuli con un femminicidio molto grave tra l'altro di una ragazza che era di Codroibo e il mio pensiero è stato rivolto proprio a questi due ragazzi se ci fossero state due persone, due uomini come questi due giovani probabilmente avrebbero sventato, chi lo sa, quegli omicidi sono cose che accadono, non dovrebbero mai accadere non si sa molte volte perché accadono come in questo caso ma fortunatamente una giovane donna oggi è ancora in vita e due ragazzi sono feriti fortunatamente in maniera non grave però in maniera permanente noi di questo gli rendiamo omaggio e li ringraziamo veramente dal medio friuli per Euroregioni News Marco Mascioli Euroregioni News